Un po' di tutto, perché a parte che io ho sempre definito Neil Simon lo Shakespeare della commedia brillante, perché ricordiamo tutti gli spettacoli di Neil Simon, la strana coppia, piedi nudi nel parco, plaza, suite, eccetera, quindi è veramente un genio della commedia brillante, è un testo meraviglioso. Mi fa piacere che tu abbia notato la scenografia, perché in un'epoca in cui spesso gli spettacoli si fanno con un divano, una porta dietro, eccetera, ecco, il fatto che una produzione investa anche proprio nella scenografia è una bella cosa, perché la commedia brillante e sofisticata ha bisogno di una scenografia adeguata, e quindi il pubblico assisterà a uno spettacolo con un testo meraviglioso, ironico, intelligente, molto divertente, per cui credo, spero, finora almeno in tutte le città dove siamo andati il risultato è stato sempre uguale, e tornare a Trapani è meraviglioso perché ho trovato un pubblico un'altra volta fantastico, e quindi insomma mi sembra che stasera il teatro sia bello pieno e quindi meglio di così. Sai che non mi ricordo com'è nata? Cioè nel senso che noi già, insomma, ci rincorrevamo già all'epoca, poi vamo e finalmente, insomma, con i nostri produttori che avevano, hanno messo questa idea di fare quest'anno tra l'arancia, è nata questa coppia di fatto del teatro italiano, ecco, e quindi poi ci siamo anche, insomma, allontanati, perché chiaramente poi ognuno ha fatto le sue cose, e poi adesso appunto questa meravigliosa idea che è di Corrado, che mi ha coinvolto in questa Plaza Suite, che è Neil Simon, io non l'avevo mai fatto, e quindi insomma è stata molto felice, la commedia è bellissima, e devo dire che per chi fa questo lavoro è una grande sfida, perché comunque noi facciamo tre ruoli diversi, di tre personaggi, sia il maschile che il femminile, completamente diversi tra di loro, e per cui è una bella sfida, tre donne, io nel mio, diciamo, settore, faccio queste tre donne che sono veramente diverse l'una dall'altra, la prima è una donna sposata, che ha questo marito che la tradisce, poi un po' più giovane, la seconda, ancora un po' più âgée, la terza, insomma, ognuna con le sue, e quindi devo dire una bella sfida, sono molto contenta, noi stiamo avendo un bellissimo successo, siamo reduci da Torino, e da altre date che abbiamo fatto a Trieste, eccetera, di fatto questa è la nostra prima data al sud, e quindi sono molto curiosa di vedere come reagirà il pubblico trapanese, che so essere un pubblico molto esperto, e molto conoscitore, e amante del teatro.